È nato praticamente dalle ceneri di quello che abbiamo fatto durante il periodo di pandemia. Ci siamo resi conto che la preoccupazione più importante di queste persone non era tanto il virus che circolava ma la sensazione di essere soli. Si chiama Mai più soli ed è il piano di servizi di assistenza socio-sanitaria per persone fragili o in situazioni di disagio che la Croce Rossa italiana metterà in campo da ottobre ad Arezzo. Il progetto va ad integrare il nostro sportello sociale d'ascolto che ormai esiste da più di 15 anni e viene integrato con dei servizi in più dal supporto psicologico al sostegno alimentare, al sostegno al pagamento delle utenze ma anche a cose magari più semplici per noi, per un anziano magari una barriera dovuta alla tecnologia potrebbe essere una difficoltà magari anche semplicemente per prenotare una visita piuttosto che avere un trasporto sanitario qualora ne avesse bisogno. Il progetto che vede la collaborazione con la fondazione Arezzo Comunità ha ricevuto un finanziamento su base triennale dalla fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Questo dimostra tre cose. La prima è che Croce Rossa, come sappiamo, è un ente ormai istituzionale che dà risposte di sistema e che va a intervenire in quelle sacche di disagio o anche semplicemente di solitudine che spesse volte hanno anche manifestazioni piuttosto drammatiche. La seconda è che la fondazione Arezzo Comunità fa il proprio, cioè intercetta quelle risorse che magari difficilmente, seppure enti importanti come Croce Rossa, potrebbero avere difficoltà a intercettare. La terza è che questa diventa sempre di più una città modello nel rapporto pubblico-privato rispetto alle politiche sociali. L'obiettivo dunque è quello di potenziare i servizi per le persone in stato di vulnerabilità che possa garantire loro l'accesso alle cure di medicina primarie e specialistica, interventi di screening, prevenzione e supporto psicologico e la consegna di farmaci ma anche di beni alimentari. In quest'ottica saranno creati ambulatori solidali. Due sono in fase di ristrutturazione, che sono ambienti che abbiamo ricavato dalla nostra sede e altri due saranno sempre ricavati da altri ambienti della nostra sede ma saranno attivati in uno step successivo. Gli ambulatori che dovremo fare saranno principalmente ambulatori destinati a chi magari per motivi esterni è stato costretto a uscire magari dai percorsi del Servizio Sanitario Nazionale. Tra le azioni previste, infine, il rafforzamento delle unità di strada e il sostegno domiciliare per persone anziane.